quello che indossi racconta sempre qualcosa di te a volte con un pizzico di follia perché chi è sano andrà pure lontano ma ci arriverà piano piano il segreto sta nella velocità che rende la vita piena di vivacità e allora rotta verso oriente stili, colori, passioni sono queste le nostre manie About Me ogni maglia racconta una storia